e bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale benza crew oggi siamo qua all'onato al soft garda karting insieme a due ospiti speciali luca pedersoli e alberto nasca siamo qua perché loro si sfideranno su due kart fantastici che dopo vi farò vedere e io sono qua a documentare la sfida la grande sfida ti schiavizziamo oggi prime sensazioni dopo le prime prove libre quindi capiamo già il livello molto alto una roba indegna mi stavi dicendo luca che hai superato tutti praticamente no non sono passato solo uno fino adesso che aveva evidenti problemi di non so di cosa il livello è altissimo qui il livello è altissimo poi abbiamo due kart a me ve lo prepara il kartissimo Renato è un altro kartissimo di rovato e nasca ovviamente che ha sempre qualcosa in più ha proprio l'assistenza ufficiale della clg sempre se prenderono la paga avevano questa scusa hai detto livello alto infatti ci sono tutti i piloti della ferrari drivers academy che girano con voi e anche yuki zunoda pilota di formula 1 dell'alfa tauri albi cos'è che avevi detto per il prossimo anno com'è io non mi ricordo censuro tanto censuro non dico niente no di cos'era che non ho capito mattia censuriamo mi dissocio infatti siamo qualunato come potete vedere alle mie spalle c'è la pista ci sono già alcuni kart che stanno girando siamo appena inizio pomeriggio e adesso ci sarà la vera sfida il time attack tra alberto e luca e qualche ripresa super fantastica che vi farò vedere in anteprima sul mio canale ci sarà anche il video ufficiale sul canale di albi che vi lascio qua il tag e lo ringrazio veramente per la disponibilità perché mi ha lasciato fare le riprese per il mio canale e mi passerà anche qualche on board che vi farò vedere tutto su Benzakiu ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto commentate e lasciate mi piace per nuovi contenuti qui all'onato e adesso andiamo al vero video iscriviti al canale 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 sulle sensazioni che prova col kart e tutto dai adesso vi lascio a qualche parola siamo qua con Luca ciao Luca ciao a tutti ciao ciao Mattia e qualche impressione dopo i primi turni non ci ho capito niente è durissima oggi peraltro ci sono piloti di altissimo livello quindi da una parte va bene perché si impara livello molto alto io sono in difficoltà nei tornanti paradossalmente nei tornanti stretti da seconda nell'ultimo pettine si faccio molta fatica perché non ho ancora capito bene la scalata l'ingresso curva come dosare il gas poi nelle curve da terza quarta curvona così tutto sommato non mi comporto neanche malvagamente però è la seconda volta che ci vado vediamo adesso abbiamo ancora un paio di turni però il focus di oggi è la sfida con quell'individuo là cioè oggi non è oggi io devo stare davanti a lui è l'obiettivo della giornata e qualche sensazione del kart sappiamo che è tuo si un kart nodo di patria della CRG una roba magnifica motore TMKZ abbiamo che ne so quasi 50 cavalli di potenza che impressioni faccio fattiva non sta a me dare impressioni c'è gente che con lo stesso kart gira due secondi più forte quindi cominciamo arrivare ai loro livelli poi poi dopo magari ti diverti con questo sicuramente mi sto divertendo tantissimo però sai quando ti accorgi di far fatica ti accorgi che comunque hai un margine di due secondi due secondi e mezzo e non lo riesci a mettere a terra insomma il gap è tanto però è anche vero che io vado in moto non vado col kart ci vuole ci vuole un po' di tempo grazie mille Luca grazie a te ciao a tutti ti fate per me non guardatelo grazie a te ciao a tutti grazie 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 a tutti